Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Io sono Tomino e oggi siamo in un nuovo video Allora, oggi è il 23 febbraio Come potete vedere ragazzi Mi è arrivato Far Cry Primar Sto giocando, c'è ora inizio Allora, questo è un mini video Non ci saranno montaggi niente Per scusarmi Per quello che appunto ora vi dico Allora, ero convinto Vi avevo anche detto che Far Cry Primar Avrò giocato i primi minuti del gioco Far Cry Primar Non ho una scheda di acquisizione video Come potete vedere ragazzi qua nella tv Ci sto a smattare Non mi riesce a registrare ragazzi Non ho capito perché Neanche con il tasto SAR mi registra Quindi ragazzi Vi chiedo assolutamente scusa per tutto Mi dispiace ma non posso registrarvi Senza una scheda di acquisizione video Ora non ce l'ho Quindi ragazzi finché non la compro Non posso caricare i video sulla play Vabbè intanto vi caricovi sul telefono Su computer E sai quante cose c'è da fare Però mi dispiace non potervi caricare Far Cry Primar Allora Ragazzi questo era un mini video Comunque a parte questo c'è il lato buono C'è il lato buono Che oggi ragazzi finirà Non lo so ragazzi però credo si Che entro domani vi caricherò il video di Traffic Raider Che è un gioco cazzotissimo Che ho fatto con il mio amico E ragazzi vi carico questo video E poi ho un bot di video pronti per essere editati E poi caricati Quindi ho registrato un sacco in questi giorni E vi caricherò Quindi niente Questo era solo un video di video per scusarmi Scusate assolutamente ragazzi Ma non so come fa Ecco Quindi niente Guardate Dio mi inciappico Dicevo Iscire la video di Traffic Raider Però Domani credo Però ragazzi A parte questo Io vi ringrazio Per la visione Per la mini visione Perché questo ragazzi È un mini video Niente ragazzi Iscrivetevi al mio canale Postate la pagina facebook Niente Guarda torno è tutto Boom